Bentornati a Memeconomics, la trasmissione che vi racconta l'economia e la finanza attraverso il linguaggio dei meme, meme che facciamo anche noi. È la prima puntata del 2021, facciamo un passo indietro. Ripartiamo dalla fine del 2020, da uno dei momenti più attesi in generale in Italia, cioè il discorso di Giuseppe Conte a Natale, quando c'era il momento di parlare del nuovo DPCM e di come comportarsi nel periodo natalizio. Ma non era l'unico, ovviamente, ce n'era un altro di discorso atteso ed era la stima sulle recolte di arance, come puntualmente ci capita di vedere il 24 sera. Ecco una poltrona per due con la parte chiave in cui c'è il Ministro dell'Agricoltura che dà la sua view sulla raccolta di arance che poi determinerà il finale del film che ogni Natale viene trasmesso dalle reti Mediaset. Dopo il Natale che cosa c'è stato? C'è stata la neve, la neve che ha coinvolto tutto il Nord Italia e non soltanto e allora tutti a fotografare la neve e ci siamo trovati nei panni di Homer Simpson e cioè circondati dalle fotografie della neve dei nostri contatti social. Nessuno alzi la mano chi non ne ha pubblicato almeno uno, è difficile trovarne uno da questo punto di vista. Ultimo dell'anno, come è stato trascorso, come è stato vissuto l'ultimo dell'anno? Sempre a livello di social perché poi i meme imperversano i social soprattutto. Lo vediamo dal prossimo cartello, eccolo qua. Il 2020 ci ha messo a dura prova ma insieme abbiamo imparato a bla bla bla. I bilanci, i bilanci dei nostri contatti su Facebook, su Instagram, su Twitter e noi che cerchiamo di scappare e di trovare qualcosa magari di più interessante rispetto invece di beccarsi e assorbire e sorbirci anzi appunto i bilanci di fine anno dei nostri contatti. Arriviamo così all'anno nuovo, arriviamo così al 2021 con una certezza. Il 2020 è stato davvero un anno particolare, diverso, assurdo ma, e questo meme ce lo fa vedere, mai visto un anno così assurdo come quello del 2020. Ma il 2021 non è che abbia cambiato il passo, anzi, siamo sempre lì, anzi è peggio di prima. Un uomo vestito da New, tatuato con altri personaggi abbastanza strani che fanno irruzione al Campidoglio a Washington, a Capitol City, Capitol Hill, chiedo scusa, sostanzialmente mettendo, occupando la sede del congresso. Ma non è tutto, l'uomo vestito, travestito da New ha fatto parlare di sé, lui e i suoi amici e ovviamente i meme si sono sprecati. C'è chi li ha attribuiti come il socio Acia, a cui abbiamo rubato questo meme, a Attila, a Batantuono e la sua squadra, il suo gruppo di barbari nel film di Attila, ma non soltanto, i più attenti anche a questo genere di film hanno trovato una somiglianza particolare che noi abbiamo colto e cioè, lo vediamo nel prossimo meme, ecco qua, questi sono per pochi, me ne rendo conto, ma sono alcuni dei cattivi che Bud Spencer riempie di pugni, come fa di consueto, nel film Chissà perché capitano tutti a me con H725, il bambino extraterrestre, il secondo episodio. Troviamo parecchie analogie tra il gruppo comandato da l'uomo vestito da New e quello invece guidato dall'uomo con le corna e gli occhi finti. Andando avanti e guardando il prossimo meme, vediamo come questo episodio abbia segnato e sia diventato virale anche per chi magari si diverte a fare dei fotomontaggi con determinate situazioni che sono avvenute in Italia e che ben si prestano a quel tipo di situazione. Lo vediamo qui ad esempio, c'è Vittorio Sgarbi trascinato via dalle forze di sicurezza del Parlamento, ben ci sta anche durante i fatti di Capitolilla e Campidoglio a Washington e ce n'è un altro ancora più, che ha strappato ancora di più sorrisi insomma e riguarda un personaggio del calcio, del calcio di qualche anno fa e che riguarda appunto l'Italia. Lo vediamo, eccolo qui, Carletto Mazzone che corre tenuto a bada, quantomeno ci sta provando un dirigente del Brescia, della loro Brescia in quella famosa sfida tra Brescia e Atalanta in cui Mazzone poi andò sotto la curva della squadra bergamasca a esultare per un 3-3 partendo da un 0-3 appunto per quanto riguarda il Brescia. Inevitabilmente si continua a, insomma, l'episodio di Capitol Hill è diventato virale, ci sono ulteriori cartelli, ulteriori meme che si prestano, ma anche in virtù del fatto che ci sono stati scontri anche fuori da Capitol Hill, dal Campidoglio e le immagini arrivavano in maniera tale che anche un maestro come Enrico Mentana è andato nel pallone, nel senso che Mentana a un certo punto ha mostrato delle immagini di un film e così, insomma, lì su due piedi, avendo visto che la regia gliel'ha mandata fuori ha detto queste cose stanno succedendo appena fuori dal Campidoglio. In realtà erano immagini di un film in cui c'erano degli scontri, c'era anche un lanciafiamme e così il web si è divertito anche un po' a prendere in giro il numero uno, diciamo così, delle maratone televisive. Attraverso questo filmato, ad esempio, lui che presenta Mars Attacks e dice attenzione perché sta succedendo questo fuori dal Campidoglio. C'è un altro ancora più assurdo di meme di fotomontaggio che vede sempre Enrico Mentana, lo vediamo con un mostro credo che siano i Digimon o i Pokémon, cartoni animati per bambini, abbiamo alcune immagini di quello che sta accadendo a Washington, questo è proprio quello che ha detto Mentana col suo ospite credendo si trattassero di immagini vere, l'uomo con lanciafiamme estratto dal film, probabilmente nei soborghi e c'è il nostro amico Drago che sputta fuoco, personaggio dei Digimon o dei Pokémon, perdonate, non ricordo. Ci ricolleghiamo con quello che è accaduto appunto a Washington perché sostanzialmente la figura di Trump è stata poi successivamente eliminata dai social network, Facebook, Twitter, perché è stato lui a incitare, diciamo così, i suoi followers, i suoi seguaci a prendere d'assalto il congresso. Al punto che è arrivata anche questa notizia è tutta vera, Corriere della Sera ma l'hanno riportato anche altri siti, dopo esser stato sospeso da Twitter, Facebook, Instagram e altre piattaforme, Trump potrebbe vedersi cancellato anche da mamma, un riperso l'aero. Trump nel film dà delle indicazioni al piccolo Macaulay Culkin all'interno del grosso albergo in cui lui si ritrova a soggiornare da solo ovviamente, gli dice guarda devi andare di qua per trovare, che ne so, l'ascensore adesso non me lo ricordo. Però è tutto vero, dilaga l'appello, cancellate Trump, da mamma ha riperso l'aereo. Situazione molto complicata, appare da gestire per i montatori e per chi ha realizzato il film. Però è successo anche questo. Ci sono delle analogie tra la politica americana e la politica italiana. I personaggi che hanno determinato in qualche modo l'ultimo rugito dell'opposizione nei confronti del governo, quello nuovo di Joe Biden che si sta andando a creare, è quello del governo italiano. Ecco qua, ad esempio, qui abbiamo la prima fusione tra i fatti italiani e i fatti in America. C'è l'uomo vestito da gnu che dice non posso occupare il Campidoglio tra vestito da muflone. Io dicevo gnu, muflone, credo che cambi poco. Joe Biden che dice no, non si può. Ah no, ovviamente è la citazione di quanto è accaduto all'interno della trasmissione di La Sette con Matteo Salvini e con Flori. Salvini diceva ma non posso parlare con una signora e togliami la mascherina. No, a meno che tu non rispetti la distanza di sicurezza. Ma questo è il primo meme che mette insieme l'America e l'Italia in qualche modo. Guardiamo anche il prossimo. Ecco, questo è il più forte di tutti ed è nostro. Non vogliamo dirlo perché ci vogliamo vantare ma perché è così. L'opposizione negli USA, l'uomo vestito da gnu, muflone che sia, l'opposizione d'Italia oggi ha il volto di Matteo Renzi. Qui proprio nell'espressione diventata virale durante l'intervista con la BBC in cui parlava di Brexit e in cui se n'è uscito con shock, shock because eccetera eccetera eccetera, preso molto in giro dal web. Da qui si sta generando qualcosa di surreale, cioè l'espressione shock, the first reaction shock, potrebbe addirittura sostituire i due meme diciamo più famosi, tra i più famosi soprattutto oltreoceano. Stonks, non stonks che peraltro danno anche il titolo, insomma è presente come espressione anche all'interno del nostro titolo, il meglio della settimana, stonks o non stonks. Facciamo un esempio, 6 gennaio 2021 ci attacchiamo alla finanza più stretta, quella che seguiamo noi tutti i giorni. Oro a 1960 dollari loncia, stonks perché l'oro era sopito sotto i 1900 da mesi. Poi però due giorni dopo, due sedute successive, oro a 1828, cioè perde più di 100 dollari loncia. Not stonks ovviamente, le cose vanno giù. Proviamo ad applicare quanto accaduto sull'oro e non soltanto anche con Matteo Renzi. Proviamo, vediamo il prossimo meme. 6 gennaio, oro a 1960 dollari loncia, due giorni dopo a 1828 dollari loncia, meno 140 dollari, first reaction shock. Io direi che ci sta tutto e se ne vediamo un altro vediamo come si sposi ancora meglio. Il bitcoin, un altro asset protagonista di queste settimane. 8 gennaio, bitcoin a quasi 42 mila dollari. 11 gennaio, tre sedute dopo, perde addirittura 10 mila dollari, quindi in due giorni perde 10 mila dollari. First reaction shock. Io direi che ci sta tutto e quindi prepariamoci. Magari Renzi diventa il nuovo stonks, non stonks, sempre con questa espressione. First reaction shock, come ha detto appunto alla BBC in un'intervista inerente alla Brexit. Rimaniamo sulla crisi di governo perché questo è un altro meme geniale che abbiamo rubato dagli amici di TML. È un vecchio gioco, quindi ci ricolleghiamo ai Simpson, l'omino che gioca a golf. Diciamo che il giocatore, in questo caso Homer Simpson, gli impone di usare una mazza 1 quando magari a ridosso del par occorre una mazza diversa, un ferro diverso. Hai selezionato crisi di governo. Andiamo avanti perché si permette il computer di dire posso consigliarti di lasciar stare. Siamo nel mezzo di una pandemia mondiale e hai solo il 3% del consenso elettorale. Che cosa decide di fare il giocatore? In questo caso Matteo Renzi, vediamo il prossimo. Hai selezionato crisi di governo e crisi di governo sia. Siamo verso la fine di meme economics, però abbiamo ancora qualche meme da mostrarvi, in particolare questo perché ovviamente si tratta di capire chi andrà incontro a Giuseppe Conte. Se non si vogliono le elezioni, Conte deve andare a cercare qualche responsabile o costruttore. Ebbene, riemerge la figura di Berlusconi. La fotografia si vede che tira sulla testa dal livello dell'acqua ed è stato associato a lui un passaggio anche qui per pochi, ma sicuramente azzeccato. Ai tempo degli dei dell'Olimpio, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. È Silvio Berlusconi, il testo che ho letto fa parte della sigla di Xina, la principessa guerriera, telefilm cult degli anni 90 e 2000, tornata peraltro in auge e di stretta attualità perché la protagonista di quel telefilm, Lucy Lawless, si è scontrata via social con Kevin Sorbo che interpretava Hercules, altra serie tv cult anni 90-2000 che trattava più o meno lo stesso argomento. I due separati dal livello politico Biden uno, Trump l'altro che si sono scontrati su più fronti anche in maniera piuttosto accesa su Twitter. Insomma Hercules contro Xina ma anche Silvio Berlusconi in questo caso. Per chiudere il nostro racconto di meme economics della settimana io direi che c'è un solo meme, un solo fotomontaggio che riassume tutto. Ma prima però vi segnaliamo anche questo perché sul tema Brexit è successa una cosa particolare. Siamo in epoca, è iniziato l'anno del 2021 con il Regno Unito che è uscito ufficialmente, anche se verrà rettificato a marzo, dall'Unione Europea. Questa è la prima conseguenza. Posso togliere il prosciutto e tenermi almeno il pane. No, verrà tutto confiscato, mi dispiace. Benvenuto nella Brexit. Tutto vero, qui lo riporta il Post, ma non soltanto. Questa è Repubblica. I doganieri sequestrano panini al prosciutto ai cittadini britannici. Benvenuti nella Brexit. Chissà se i britannici avevano calcolato questo passaggio in cui non potevano portarsi i panini all'interno degli aeroporti. Ma anche questo è Brexit, evidentemente. Dicevo, qual è l'ultima fotografia, l'ultimo meme che riassume la settimana? Io credo che sia questo. Matteo Renzi, che diventa uno dei manifestanti di Capitol Hill, del Campidoglio, che saluta e che si porta via quel podio e che poi alcuni hanno immaginato che venisse messo su eBay o su Amazon quello che l'è. Comunque sia, insomma, che Renzi diventa uno dei manifestanti che hanno sostanzialmente preso d'assalto Capitol Hill. Questo è Memeconomics. Speriamo di avervi strappato qualche sorriso. Noi ovviamente torniamo la settimana prossima. Rimanete con noi sulle fonti TV.